C5X si distingue per un design innovativo e inedito. Una sintesi tra lo status, l'eleganza della berlina, il dinamismo, la praticità di una station wagon, l'attrattività e la modernità di un su. Oggi vi presento un incontro sul tema del design. Tra Frédéric Angibault, designer di C5X, e Cécile Bateau, codirettrice dell'Istituto di ricerca Brain Value, che ha condotto l'analisi dei consumatori per Citroën su C5X. C5X è veramente la sintesi del meglio dei tre universi. Da un lato la berlina, il SUV e la station wagon. È una vettura che ho immaginato con volumi attraenti, ampi, molto generosi, ma nello stesso tempo per dare modernità con forme molto definite, decise, che conferiscono precisione, cure e tecnicità. Un aspetto sofisticato alla vettura. Sì, in effetti le persone che abbiamo intervistato hanno riscontrato una grande modernità. Hanno proprio descritto C5X come un oggetto all'avanguardia. E allo stesso tempo non si tratta di un'innovazione, di una modernità che disorienta. Non si tratta di qualcosa che va troppo lontano. Ci hanno parlato di una modernità equilibrata. E nel complesso questa vettura è stata descritta dai clienti che abbiamo incontrato come un punto di equilibrio tra modernità e nello stesso tempo tra elementi che conosciamo. Elementi familiari, tratti distintivi Citroën, elementi che caratterizzano l'identità Citroën, come l'eleganza, la capacità di distinguersi, ma allo stesso tempo senza esagerare, senza arroganza. C'è una sorta di equilibrio, infatti, raggiunto nel design esterno. Le linee e le forme trasmettono sicurezza. È attraente, ha volumi generosi, pieni. Ha una linea fluida, slanciata, con un abitacolo molto voluminoso, molto lungo, con uno spoiler molto allungato, che garantisce ombra nel posteriore, che conferisce una sensazione di velocità anche se la vettura è ferma. Dunque, in questo caso siamo davvero nell'universo della berlina. Poi, quando si considera la posizione e l'assetto della vettura, si vede che è molto rialzata, con il sottoscocca nero. Siamo nel mondo dei SUV. Abbiamo una vettura che offre chiaramente anche a colpo d'occhio delle caratteristiche da station wagon. Basta guardare il posteriore, la soglia di carico è molto bassa ed è molto ampia, per una funzionalità assolutamente fuori dal comune. Questo desiderio, infatti, che ritroviamo nei consumatori di avere oggetti versatili, ibridi, che escano un po' dagli schemi e dai codici prestabiliti. È una cosa che riscontriamo in molti altri studi che abbiamo fatto in numerosi altri settori. C'è un profondo interesse verso ciò che unisce differenti universi. L'incontro tra il mondo del lusso e il mondo dello streetwear, in questo momento, per esempio. Nel settore della moda c'è la tendenza a creare oggetti genderfluide o senza genere, la capacità di liberarsi dai codici tradizionali della moda maschile o della moda femminile e di reinventare qualcos'altro. Possiamo anche parlare del successo che riscontrano nelle grandi città tutti i luoghi terzi, quegli spazi che uniscono divertimento, attività sociali, spazi per bambini e famiglie, spazi per i giovani che vogliono ritrovarsi tra amici e dunque proporre un oggetto ibrido come la C5X significa inserirsi pienamente in questa tendenza, significa proporre ai clienti un oggetto che non li confini in un solo aspetto della loro vita e consenta loro di utilizzare un'auto per le esigenze familiari e per le loro necessità lavorative, per il tempo libero così come per le esigenze quotidiane. Dunque è questa ibridazione la chiave del suo successo, secondo i clienti che abbiamo intervistato. Questa combinazione racconta la maniera in cui vogliamo vivere. Oggi le persone non rinunciano a niente e desiderano avere tutto. In un progetto automobilistico come questo bisogna offrire qualcosa che risponda alle loro esigenze.